Feeling Home, sentirsi a casa, è la mostra che apre un lungo mese di eventi culturali che occuperanno le stanze del castello Visconteo di Voghera. Promossa da Spazio 53 in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Voghera, verrà inaugurata sabato 9 settembre alle ore 11 e rimarrà aperta al pubblico dal 9 al 27 settembre, il sabato e la domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. E siamo con Giussi Tigano che è la curatrice di Feeling Home, questa mostra che sta per arrivare al castello Visconteo di Voghera. Giussi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Raccontaci un attimino che cosa ti ha conquistato di Feeling Home. Io ho concepito questo progetto pensando a un tema che è molto caldo, molto vivo per tutte le persone, insomma, che possono sicuramente dare un'interpretazione di questo argomento in base alla propria esperienza, al proprio modo di sentire, al proprio vissuto e probabilmente anche un po' ai propri sogni o ai propri incubi a volte. Per cui mi sono ripromessa di proporre ai fotografi della mia agenzia un argomento che potesse dare il loro modo di esprimersi al meglio rispetto appunto alla propria poetica e anche al proprio linguaggio, perché poi ciascuno di loro ha riflettuto ovviamente sull'argomento e si è espresso in maniera, a mio avviso, sorprendentemente originale, se vogliamo mettere insieme nel loro complesso le interpretazioni, perché in effetti alla fine il risultato è stato un insieme di interpretazioni molto diverse tra loro, che però hanno dato, a mio avviso, un significato poliedrico e ricchissimo al concetto. Ovviamente loro sono sette, il concetto di casa è uno e diverso per ogni persona, quindi non pretende questo progetto di essere esaustivo. Tuttavia ritengo che abbia dato un contributo molto interessante e che lo stia dando anche muovendosi, insomma, in diverse città, per stimolare anche la riflessione in ciascuno, tutti i visitatori che vorranno e potranno e che sono già venuti a trovarci, a riflettere sul proprio senso di casa, sul proprio sentire casa. Il concetto inglese feeling home è un po' più sofisticato della traduzione, perché non è sentirsi a casa necessariamente, ma è proprio sentire casa, che non è a casa, cioè come se fossimo ciascuno di noi a casa propria, ma casa, c'è proprio l'intimo a connessione con noi stessi, quindi il sentirsi bene dove si è, indipendentemente dal luogo. Quindi anche il nostro concetto, appunto anche quello espresso in inglese, ma ovviamente che ha una traduzione ovvia anche in italiano, quindi casa non è un posto, ma è un sentire, ovvero un proprio sentire, neanche un sentimento, un sentire dentro di sé. In un'epoca in cui sentirsi persi in realtà è molto semplice, no? Esatto, esatto, infatti qualcuno ha proprio approfondito questo argomento, cioè riuscire a ritrovare punti di riferimento in un contesto mutevole come quello odierno, in cui sembra quasi di perdere ogni riferimento, ogni appiglio al proprio modo di essere stati, di essere cresciuti, di avere avuto dei punti di ritrovo anche col proprio modo di essere, quindi con la propria storia, col proprio essere maturati e cresciuti in un ambiente. Ecco, questa è per esempio l'interpretazione di Maffi, che è anche simbolo della locandina, della mostra di questa edizione, che ha fatto fatica, o che comunque sta facendo questo sforzo di identificazione del proprio senso di casa in un ambiente metropolitano come quello di Milano, che negli ultimi vent'anni si è trasformato radicalmente. Quindi ecco, la bellezza secondo me di questo progetto è proprio questo, cioè trovare sicuramente un punto di emozione, di riflessione su noi stessi in un momento in cui purtroppo si avverte questa difficoltà, questa difficoltà anche di ritrovarsi nei valori, nella comunità che esplode un po' forse troppo nel virtuale, nella lontananza, nei rapporti a distanza e quindi magari c'è un po' più bisogno del contatto a volte proprio con noi stessi. E quindi la sensazione di trovare di nuovo il nido, il calore, del sentirsi a casa, che molti di noi hanno associato a ricordi, profumi, sogni, tracce di casa. Ecco, poi a seconda dell'interpretazione di ognuno, secondo me è uno degli esercizi più straordinari che ciascuno di noi possa fare, quindi ritrovarsi. E questo secondo me è il bello di questo progetto. In un periodo storico in cui le migrazioni sono un tema attualissimo, io non ho ancora avuto modo di vedere la mostra che ovviamente è in preparazione in questo momento proprio, c'è un collegamento a questo fenomeno oppure no? E se sì, qual è? Dunque, come dicevo, io ho lasciato ai fotografi la libertà, giustamente, espressiva di interpretare l'argomento secondo le proprie inclinazioni e la propria voglia di raccontare. Ci sarebbero state potenzialmente sicuramente esperienze come fotografi che avrebbero potuto portare anche un messaggio in questa direzione. Uno dei fotografi dell'agenzia ha scelto di interpretare il senso di casa mettendosi, diciamo, nei panni, nelle scarpe di altre persone, non il proprio senso di casa, ma proprio quello di persone diverse che hanno affrontato questo tipo di tematica. Quindi c'è anche questo riferimento. Il nostro più giovane fotografo, Daniele Vita, ha infatti voluto rappresentare il senso di casa che dei profughi siriani hanno ritrovato a Istanbul, anche geograficamente abbastanza particolare come situazione, in un quartiere di Istanbul abbandonato, nel quale loro si sono potuti insediare, appunto, essendo profughi, e hanno ricreato esattamente un ambiente casalingo, intimo, incredibile. Incredibile nel senso che queste case fatiscenti diventano ambienti di vita dove anche si riscoprono i sorrisi, il gioco dei bambini, le donne che stendono i panni sulle finestre delle case distrutte, un'esperienza veramente forte che il nostro fotografo ha vissuto in prima persona perché poi nello specifico Daniele Vita è una persona, un reporter straordinario che si muove nei luoghi dove sceglie di andare a leggere il mondo e ci vive proprio per un certo periodo, proprio a contatto con queste persone. Lui è anche la persona che ha realizzato le foto ad Amatrice subito dopo il terremoto e che ha testimoniato fotograficamente questa esperienza nella scorsa edizione milanese nella quale siamo riusciti a dare un supporto anche a un'associazione locale, l'associazione 10 agosto, e quindi abbiamo caldeggiato e supportato anche economicamente con l'aiuto della Fondazione Cattolica questo progetto di ricostruzione di un ambiente di gioco per i bambini, questo è successo nelle edizioni milanese, per queste persone, quindi bambini di Amatrice, di zone limitrofe, che potevano ritrovare un luogo di aggregazione in una situazione abbastanza preoccupante, devastante, che ancora oggi purtroppo a un anno dal fatto non si è purtroppo risolta. Una mostra davvero interessante, qual è l'impegno di Spazio 53 per quanto concerne Feeling Home? Diciamo che questa operazione è stata fatta in congiunzione appunto con Giusy Tigano, che è la responsabile di G-Art Photo, e con l'assessorato della cultura con il quale stiamo collaborando da diversi anni ormai, e questa mostra viene proprio, capita in un momento importante per noi, perché riempie questa bella struttura con una mostra che secondo me valeva la pena di portare a Voghere. Essendo una mostra itinerante, come seconda tappa, portare a Voghere è stata una cosa veramente interessante. Quindi noi di Spazio 53 cerchiamo sempre di curare questo atteggiamento di rispetto per la città, ma anche per gli autori che sono molto importanti, sono sette autori a livello internazionale, quindi voglio dire è un bel approccio sulla nostra città. Concentrandoci un attimino sul tema, che cosa vi ha colpito di Feeling Home? Beh, diciamo i contenuti in assoluto, perché rapportano l'elemento umano con l'ambiente in cui vive, quindi la casa, il proprio ambiente, sentirsi a casa. Quindi sentirsi a casa vuol dire non soltanto abitarci, ma anche avere un rapporto con ciò che ci circonda, quindi i nostri ricordi, i nostri ambienti, i nostri passati, i nostri vissuti. E quindi questa cosa ci ha colpito perché coglie nell'ambito di ogni autore, tra l'altro, che tutti e sette hanno esposto in modo personalissimo questo impatto di sentirsi a casa. Quindi ci è piaciuto molto e vorremmo che fosse anche apprezzata da coloro che visiteranno questa mostra. Ecco, siamo circondati da altre opere di questa mostra. Qual è il valore di queste fotografie, secondo lei? Ma è una mostra molto importante perché riunisce l'opera di bene sette autori che operano nell'ambito milanese, sono sette professionisti dell'immagine e pertanto sono in grado di dare una visione personale di quello che può essere un concetto di casa, non inteso come casa abitazione, ma molto più ampio. Casa come luogo, come ambiente, come città anche se vogliamo. In qualsiasi caso è questa dimensione molto più ampia e complessa che è un po' l'abitare, ma nel senso di vivere. E la vita avviene in diversi momenti, in diversi luoghi, ma soprattutto c'è questa idea qui del ritorno. Case che ci sono, ambienti che ci sono, un ritorno a quello che può essere anche le nostre origini. Feeling Home riassume questo concetto qui e direi che la fotografia è particolarmente in grado di fornire, con un linguaggio anche moderno e autonomo, questo concetto, quindi questa concezione non tanto di casa in senso stretto, ma proprio di viaggio, un viaggio anche interiore in tanti casi. Ed è un qualcosa che attraverso queste visioni diverse ci colpisce, proprio perché l'abilità di questi sette fotografi, quindi grandi fotografi, è in grado di trasmettere queste emozioni, questi sentimenti, questa visione più ampia di quello che può essere l'immagine fotografica. Secondo lei una città come Voghera e i vogheresi come accoglieranno questa tematica? Beh, c'è una certa tradizione fotografica, un po' perché lo spazio 53 da tanti anni che fanno mostre, anche questo ambiente, questo castello qui che ha una sua storia, ne ha ospitato diverse e hanno sempre avuto un certo successo. Direi che questa mostra quindi si colloca all'interno di questo contesto che è molto più ampio e che ha una sua storia e può fornire, come dicevo prima, questa visione nuova, una visione molto articolata e soprattutto la possibilità che viene data al pubblico vogheresi di vedere una mostra che ha già avuto una sua prima tappa molto importante a Milano, la fabbrica del vapore, un luogo deputato, quindi alla cultura, e che proseguirà anche in altri spazi, in altre città, proprio in questo percorso. Per cui è un'occasione anche per il pubblico di Voghera di vedere una mostra che sicuramente avrà successo anche in molte altre città. E siamo con Luca Cortese che è uno dei sette straordinari fotografi che hanno fatto sì che tutto ciò avvenisse e tutto parte da un concetto che vedo anche alle tue spalle, Home is not a place, it's a feeling, di Erman Esco e Soforisma. Sì, esatto. Come trasformarlo in fotografia? Ognuno di noi credo abbia scelto il proprio linguaggio fondamentalmente. La cosa interessante è che pur senza coordinarci, ognuno di noi ha trovato la sua chiave in maniera abbastanza differente dagli altri. C'è chi ha parlato dell'esperienza dei profughi, c'è chi ha sviluppato discorsi in maniera molto più intimista, c'è chi ha affrontato il tema della città in cui vive. Io sono arrivato a ragionare invece proprio sull'interno del luogo dove vivo, della casa. La cosa che mi ha colpito ragionando e sviluppando questo progetto è il fatto che la casa è il luogo dove passiamo moltissimo tempo e che però diventa per familiarità un rumore di fondo. Quindi una cosa a cui si dedica relativamente poca attenzione fino a quando qualcosa non esce dall'ordinario. Cioè se tutti i miei libri sono a posto, sono i miei libri che sono lì. Se quel libro che sto cercando non è nel posto che mi aspetto, allora tutto cambia. Cioè sale sopra una soglia di attenzione che in realtà invece normalmente non esiste. Allora l'idea che ho avuto è stata quella di riportare sopra la soglia di attenzione alcune ordinarietà della vita quotidiana. È una scelta naturalmente molto personale e però si è integrata benissimo all'interno di questo progetto che abbiamo visto anche con Giussi e che alla fine ha sorpreso un pochino tutti noi ma che ha trovato una sua armonia complessiva. Posso dire che la casa spesso regala anche sorprendentemente dei luoghi, degli angoli, dei punti luce, delle sfumature che magari non si erano mai notati prima e poi improvvisamente invece ci si rende conto che ci sono, che esistono e magari meritano anche di essere fotografati. È esattamente così, è proprio questo. La mancanza di attenzione, fra virgolette, l'ambiente a cui siamo abituati merita un occhio un pochino più attento. A quel punto si scoprono piccole meraviglie anche. Cioè veramente lo scorcio di luce, il piccolo dettaglio, la bellezza di quell'oggetto che è lì da sempre e che diamo in qualche modo per scontato. Vale per la casa come per le città. Nel senso che alcuni di noi hanno parlato della città che sale sopra la soglia di attenzione nel momento in cui cambia qualche cosa. Si trasforma un quartiere, per esempio. Il palazzo storico, relativamente storico magari, che è lì da poco prima della guerra dopo un secolo e mezzo scompare e viene sostituito da qualcosa di modernissimo. A questo punto tutto cambia e tutto diventa nuovo e interessante. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.